La saga fantastica e affascinante di Re Laurino si trasferisce dalle pagine dei libri al grande schermo, dalla carta alla pellicola, anzi al digitale, visti i passi in avanti fatti dalla tecnica cinematografica. Negli ultimi giorni hanno preso il via le riprese del film intitolato appunto Re Laurino, che verranno ospitate in gran parte in Alto Adige, ma anche in Germania. Diverse le location scelte, noi abbiamo visitato il set allestito a Castelmosa, sopra Dappiano, dove la truppa sta lavorando alacremente per rendere il più apprezzabile possibile, anche dal pubblico dei cinema, le avventure e le magie del piccolo Re Laurino e Re degli Elfi, con il suo eterno conflitto con Re di Trish, la lotta tra il grande e il piccolo che affascina le popolazioni dell'arco alpino da parecchi secoli. Finanziato da BLS, la società che per conto della provincia di Bolzano si occupa di Film Commission, il film verrà girato anche al Passosella e nella zona di Campo Tures.